Ciao, sono Fumona, ho partecipato oggi al corso con Marco e Andrea, è stata un'esperienza molto bella, è la seconda volta che partecipo, mi sono trovata benissimo, abbiamo parlato di argomenti molto interessanti che mi hanno lasciato il segno dentro e sono soddisfatta e spero che chi mi sta ascoltando faccia la stessa cosa che ho fatto io.